ciao a tutti ragazzi sono qui per aprire la casella successiva manca una settimana per la virgile di natale anzi tra una settimana e natale tra una settimana e natale quindi praticamente ci sono pochissime caselle da aprire allora ieri abbiamo aperto la numero 16 oggi invece apriamo la casella numero 17 che sta sotto la 19 vicino alla 7 e vicino alla 9 eccolo qua la numero 17 sta qua vediamo cosa c'è in sui casi ah un altro bello di natale ok Sì 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 Ok Giorno numero 14 Giorno numero 17 Eccovi a voi questo bellissimo albero di Natale Guardate quanto è bello l'albero di Natale Abbiamo aperto la casella numero 17 Ehm Mancano solo Pochissime caselle da aprire Eccovi qua la numero Non manca la numero La numero 18 La numero 19 La numero 20 La numero 21 22 23 24 E Eccolo qua Questo albero di Natale numero 17 Eccolo qui Bene Noi ci vediamo domani Con l'apertura della casella numero 18 Ciao a tutti Al prossimo video Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi si п